E vai ragazzi, complimenti! Non ha messo il numero, ma la vedi? Ciao, come ti chiami? Rita, wow, da dove vieni? Da piede di cento, ma pensa a te. Ascolta, cosa fai in barri della vita? Lavora nella cucina di una scuola, perfetto. E come vorresti, tu vuoi l'ideale? Non lo sai, non ne ha un'idea. Oh, se ne è che devi portare la carta, io non lo posso sapere. Dice, ora, hai fame? No, un pochino. Ha avanzato con i binti alle 11 metri, adesso è quello che immagino di canti, arriviamo a me. Bene, ecco qua, pensate, sei moffionato? Passatevi fuori. Ragazzi, è moffionato, per l'ora è sul suo. Dalla piove di cento vieni fino qua. E allora la stessa cosa. Ma mi hanno carità? Beh, anche lei forse ha carità, che ne sa. Hai fatto tutto un bel lavorio. Siete, dice, buon appetito, ragazzi. A piove di cento vieni che si sono finita. Piccola pausa. E finita. E poi si fa. Anche quando...